Buongiorno. Siedi. Grazie. Sono voluto venire in giardino stamani. Non mi andava di stare chiuso in casa. Allora, cosa ti è successo? Niente. Fa' firma questo. È uno di tutti. Senta, sia gentile. Mi è caduto l'accendino e non riesco a trovarlo. Può venire, per favore. Sì, signore. Ecco. Attenta a quello che fai. Tira fuori i soldi e non ti succederà niente. Ti è andata male questa volta, furbone? Posala. Alza lentamente le mani. Signora, lei chiami la polizia. Lascia il telefono. Usa lentamente le mani. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Tu hai la tua mania di sparare. Doveva essere una cosa semplice. Tu non mi conosci, non ci conosci, non sai chi siamo. E per adesso ti va bene così. Ecco, ho portato quanto mi avete chiesto. Un momento, le negative. Qui ci sono le tue negative. Che vi prende? I patti non erano questi. Ho portato i soldi, dovete darmi quello che mi spetta. Sta tranquilla, avrai quello che ti spetta. Su segnalazione ci siamo regati al parco della Pellerina, dal lato di Via Cossa. E abbiamo trovato il cadavere di una giovane donna. A quanto risulta è stata uccisa con alcune pugnalate al ventre. Dai documenti risulta trattarsi di una certa Marta Serafini, sposata al dottor Guido Borletti. Il commissario Leoni chiede che una volante si recchi al 28 di via Chiesa della Salute a prelevare il dottor Borletti. Auto 9, ricevuto messaggio. Procediamo per richiesto prelievo dottor Borletti. Certo che, come notata, non c'è male. Prima il cinema, poi la donna della Pellerina. Crede che siano dei professionisti? Chi? Quelli della rapina del Cino. Era combinata bene. Ma il fatto che abbiano sparato con tanta facilità fa pensare a dei principianti. Per certa gente ci vorrebbe chi penso io. Frizieri, non dire cazzate. Non siamo più nel Far West. E i giustizieri non sono più di moda. Poi allora potevano essere ancora giustificati. Perché non c'era la legge. Sarà come dice lei. Ma da quando è spuntato questa specie di giustiziere, come lo hanno chiamato i giornali, c'è stato un certo Re Pulisti. Non è d'accordo? Eh sì, è vero. Ma non per questo si può tollerare una cosa del genere, caro frizzieri. Ti immagini se tutti facessero così? Tanto per cominciare io e te saremmo a spasso. Dai, spostiamoci e vediamo se teniamo un caffè aperto. Allora, va. Oddio, 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 scappa! Scappa qua, scappa là, non si riesce mai a stare tranquilli. Tutte le sere è la stessa storia. O non avete altro posto dove andare a rompere le scatole? Sempre in giro, eh? Ma guarda tu! Ma è possibile che ce la mette sempre in giro? Un po' di mignote e qualche pappone, guarda. Ma c'è cari delinquenti, ma dico io! Vieni un po' qui, vieni un po' qui. Bregadiere, stavo andando a lavorare. Ma ne pulite, senza caldo. E tappo i gabardini. Faccia da Gargagnano. Ma se lavori con una figina del Bregadiere, me la sassi dire, no? Me la sassi andare. Ma vai! Vai con lui, vai. Amico tuo, eh? Eh, da tanto tempo. Zebra 27, qui centrale. Qui Zebra 27, avanti. Segnalazione su Franco Solari? Niente da segnalare. Ti, Gen Solari. Fermo! No! 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 Cretina, guarda dove vai, un'altra volta ti metto sotto Hai visto il giornale di oggi? No, perché? Non la riconosci? Mi sembra quella che era con noi quel giorno Sì, è lei, e ora è morta Pensi sia stata uccisa da loro? Perché tu no? Senti, io non me la sento di continuare Ma perché? Per quella Marta Se le è capitato, è segno che se l'è voluto Ma come fai a parlare così? E tu? Che cosa hai poi da lamentarti? Non sei sempre stata d'accordo? Hai anche imparato a parlare come loro Se sono dentro a tutto questo, devo ringraziare te Comunque voglio che tu per prima sappia che non voglio più avere a che fare con loro Voglio uscirne finché sono in tempo Ma sei impazzita? Vuoi fare la stessa fine? È pericoloso Quella è gente che non scherza Ehi, voi due, avete finito di contarvela? Aspettiamo voi Veniamo Ne parliamo più tardi È inutile, tanto non cambio idea Sei rapine, dieci aggressioni e in più quattro omicidi Due dei quali poi hanno l'area di esecuzioni vere e proprie Certo, non c'è da stare allegri E poi c'è chi sostiene ancora che non è vero che Torino è diventata la capitale della criminalità italiana Signori, voglio da voi dei risultati il più presto possibile E soprattutto da lei, Moretti, che mi aspetto grandi cose Richiamo la vostra attenzione sul caso del francese Come ricorderete, Pier Simoni era stato costretto a lasciare la città Quando la banda dei marsigliesi fu estromessa dal giro Tornando a Torino, Simoni rischiava la morte Era stato minacciato Ma a quanto pare non aveva preso sul serio le minacce E noi ora ci troviamo una rogna in più Forse Simoni pensava di essere stato dimenticato Colasanti, dovresti sapere che quelli del clan non minacciano mai a vuoto E doveva saperlo anche Simoni Se per due anni non si è fatto vivo E quando decide di tornare lo fa di nascosto Piuttosto sarebbe interessante sapere perché ha rischiato la vita Credi ad un eventuale reinserimento dei francesi in città? È possibile, sento odore di droga Non dimentichiamoci che qui a Torino più di una volta Si è concentrato gran parte del traffico di droga pesante E per quello che riguarda Franco Solari? È stata una esecuzione della mala, punto e basta Non voglio sentir parlare di giustiziere, chiaro? Moretti è incaricato del caso del francese E questo caso deve avere la precedenza assoluta Signori, sono in attesa dei risultati E che siano positivi Ha raggiunto! Grazie. Qui centrale operativa, rapina Big Market. Beta 7 Savona 2, convergere verso quadrante 8. Beta 7 ricevuto, vai. Savona 2, portarsi soccorso Grosseto. Porca puttana, la madama. Vai avanti, bastarda, vai, forza, vai. Adesso mi hanno stufato. Grazie. No, no, no. Come sta andando? Bene. Leggi cosa scrivono di noi sui giornali. Sì, mi sembra che... Rosi? Scusa un attimo. Autobanditi si schianta contro distributore che esplode. Tragico bilancio. Sei morti. Sono loro. Che brutta fine. In fondo gli sta bene. Non mi hanno più voluto con loro. Sì, d'accordo. Mandate due fonogrammi immediatamente. Sì. Sì, sì. Fate in modo che i parenti possano essere a Torino al più presto possibile. Sì, solita prassi. Allora va bene, conto su di voi. Arrivederci. Erano quelli del cinema? Sì, sono stati riconosciuti. Come sia stato possibile solo Dio lo sa. Ho saputo degli agenti e del passante. Non me ne parlare. Ci è costata cara la mattinata. Calleri, il proprietario del negozio, più due uomini all'ospedale. Ma erano in tre su quell'auto. Il quarto che fin ha fatto. Beccheremo anche quello, vedrai. Se hai incensurato sarà difficile scovarlo. Ci sono delle novità sul francese? No, per il momento ancora niente. Stiamo facendo i soliti controlli, vediamo tanta gente, ma... rompendo le scatole alla mala vedrai che qualche cosa salterà fuori. Se lo dici tu, sarà certamente così. Sì, sono anni ormai che lavoriamo insieme. E fino a oggi sei sempre riuscito a mantenere tutte le promesse. Il tuo stato di servizio è un esempio per tutti noi. In tutta la tua carriera c'è forse un solo neo che oscura la tua gloria. Sai a chi alludo, eh? Sì, a quel figlio di puttana del giustiziere. Ci mancava anche la stampa a ricamarci sopra, ma lasciamo perdere, lasciamo perdere. Sì, hai ragione. Poi fra queste mura non lo si può nominare. Il capo non vuole. Questa sera sono di riposo, ma se hai bisogno di me, sai dove trovarmi. Però cerca di farne a meno, eh? Ciao. Senti una cosa, se il dottor Borletti è già arrivato, fallo passare. Certo. Dottor Borletti? Prego. Prego, dottore, si accomodi. Buongiorno, commissario. Buongiorno. Non vuoi pensarci ancora un po'? Se oggi non te la senti, posso dire che non stai bene. È inutile mettere tempo in mezzo. Quando li vedi oggi, direi che voglio incontrare qualcuno di loro. Io aspetterò al solito posto. Come vuoi. A volte sei più testarda di un asino. Io francamente ho paura di quella gente. Di piuttosto che quei signori ti fanno comodo. E tutte e due sappiamo perché. Di piuttosto che ti fanno comodo. Pronto? Sì, sono io Borletti, avvocato Sì, certo, ne esco proprio ora Tutto bene, ho fatto come mi avete chiesto Bravo, Borletti Come le ho già spiegato, trovo inutile gettare altre ombre su tutta la storia Niente e nessuno può ridare la vita a sua moglie Ma lei non crede che avrei dovuto parlare almeno del grosso prelievo in banca? No, sarebbero arrivati ad affrettate conclusioni Io penso alla sua carriera Ma io voglio che il suo assassino la paghi Questo lo vogliamo tutti, ma potrebbe anche non avvenire E allora non trova inutile rischiare Borletti diretta a me È per il suo avvenire Sì, certo, avvocato E grazie Oh, questo è il tuo padre che ancora una volta dirà che farà tardi Sì? Ah, ciao Elena, come va? No, Maria è qui Sì, è rientrata da più di due ore Aspetta, domando A che ora vi siete lasciate tu e Sandra? Saranno state le cinque Dice che si sono lasciate alle cinque Va bene? D'accordo Ciao Pare che Sandra non sia ancora rientrata E naturalmente Elena comincia a stare in pensiero Capirai Sì, è rio La versione è rio Ciao Lucia, come stai? Ciao Ugo, sono contenta di vederli No, un momento Adesso che ci penso non sono affatto contento Se sei qui è perché hai bisogno di lui, vero? Si, è così, non volermene Ma sai, Sarti sei ammalato e allora... E allora chi ci rimette sono sempre io Non puoi dire che non l'hai trovato Prima il servizio, poi l'allenamento, poi ancora il servizio Il nostro ormai è un amore platonico E lo facciamo solo per telefono Sapete che cosa vi dico? Andate a quel paese tutti e due Ciao Hanno trovato una ragazza uccisa alle vallette Hanno bisogno di noi Faccio una doccia a rivoluzione Se n'è andata, dandoci un indirizzo prezioso Commissario Allora, cosa mi racconti? Un agente di custodia stava facendo il giro di controllo prima della chiusura E ha scoperto il corpo della ragazza Ciao, moreni Ciao Brutto affare Già, è sempre così quando ci si vede Che mi dici? È stata strangolata con un fil di ferro E in più violentata Sai come la penso Ma in casi come questo non vorrei che fossimo noi a prenderlo quel bastardo Voglio dire, chiunque sia stato merita una morte peggiore di questo Dottore, non devi parlare così Dici, ho una figlia della sua stessa età Ma come? Rientri di già Fate sciopero questa notte? Credevo fossi già a dormire Infatti, sono una stupida da aspettarti Sei stupida perché mi vuoi bene? Dai, lo sai come è il mio lavoro Non le tighiamo proprio stasera Ho bisogno di te Scusami, amore Sono stata dura con te Saliamo, mi racconterai tutto Ormai dovrei essere abituato Invece Se tu l'avessi vista Non più di 17 anni Ti assicuro Che se riesco a mettere le mani su chi l'ha uccisa Smettila, cerca di non pensarci Io ti amo Lo so, amore E so anche che ti costa molto Tu odi il mio lavoro E ti giuro che qualche volta anch'io All'inizio hai tutta un'altra idea di come dovrebbe essere Poi Quando ti rendi conto della realtà è troppo tardi Sì, lo so Lo so E tu mi dici di smettere, ma Ma che faccio? L'assicuratore? Il piazzista? E ricominciare tutto da capo No, non me la sento E d'altra parte mi dispiace di sentire quello che sento Io invece sono contenta Contenta? Perché? Perché questa prova che ancora non ti sei completamente incallito E spero che non succederà mai Eccolo Eccolo Guarda Dai, vai gli dietro No, a loro pensiamo dopo, so chi sono Si è fatto male Ma io ho visto dei delinquenti, veramente dei delinquenti Che scherzo Signor Perè, sono veramente mortificato, è ferito? No, è solo una botta e un po' di mal di testa Venga, telefoniamo al commissariato Vediamo quello che si può fare per la sua borsa No, grazie Direttore, credo che tutto questo sarà solo una perdita di tempo Inoltre, non posso rimandare la mia partenza per nessun motivo Comunque, io la ringrazio della sua premura e arrivederci Dovere, signor Perè, che facciamo un viaggio, arrivederci Dove, signore? All'aereo club, grazie All'aereo club, grazie Buongiorno, signor Perè Come mai senza bagagli questa volta? Purtroppo, ma in volo le spiegherò Andiamo Grazie 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 Meno sette, meno sei, meno cinque, meno quattro, meno tre, meno due, meno uno, ora! E ora pensiamo a quei due. Jean Perrin e Pierre Simoni in qualche modo cercavano un po' di spazio al sole a Torino, ma a quanto pare per conto loro, visto che la polizia francese ci ha confermato che il gruppo a cui appartenevano si è sciolto più di un anno fa. Questo però non toglie che possono averlo ricostruito magari con altri elementi. E' lei, caro Moretti, che deve rispondere a tutti questi interrogativi? Da quanto era a Torino? Dov'era alloggiato? Lei non ci crederà, ma Perrin era alloggiato semplicemente in un albergo della città già da quattro giorni. Oh, questa poi! Qualcuno certo ballerà per questo, per Dio! Avanti! Scusate, c'è il direttore dell'albergo. Ho pensato fosse bene che lo sentisse anche lei. Ha fatto bene. Lo faccia entrare. Signori, buongiorno. Si accomodi, signor Carilli. Che cosa ci può dire, Super Ren? Ma come? Ha fatto la denuncia, mi ha detto che aveva premura di partire. Di che denuncia parla? Non sei tu che ti sei occupato mesi fa di uno scippo fatto da due fratelli, con una grossa moto? Uno dei due aveva la barba. Sì, furono rilasciati perché non c'erano proprio a carico. Non mi interessa questo, voglio nomi e indirizzo, subito. Aprite! Polizia! E poi fuori! Sappiamo che siete in casa. Forza, ragazzini. Da questa parte, comissario. Vacca, boia. Sono loro, Daniele. Purtroppo. Qualcuno ci ha preceduti. Voi date un'occhiata al resto della casa, tu chiama la squadra. Date un'occhiata in giro. Bisogna cercare una 24 ore marrone. Si saranno resi conto di quello che avevano per le mani? Non. Credi sia droga? Forse sì. Vieni qua qua. Mi ha tutta l'aria. Ora credo di sapere come sono andate le cose. Qualcuno di quei signori che stiamo cercando stava seguendo Perren e ha visto quei due fare lo scippo. Ehi, guarda un po' qua. Cavolo. 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 No, no, no. Avete finito di rompere i coglioni, tu e quello stronzo di Moretti. Dagli questo da parte mia. E questo da parte mia. Affanculo. Non è possibile. Ma siete sicuri che non siano un fotomontaggio? Si convinca. Sono veri. Sapete, oltre ad adolorarmi, queste foto mi sorprendono. Conosco... Conoscevo bene mia moglie. E la si poteva definire una donna frigida nel vero senso della parola. Ma non dovete dimenticare, come già vi ho detto prima, che in tutta questa storia c'entra la droga. E voi, come medico, meglio di chiunque altro. Conoscete gli effetti che può provocare. Piuttosto, ditemi... Perché non mi avete parlato dei soldi prelevati da vostra moglie il giorno della sua morte? Come avete saputo. Non importa. Non li avevo collegati alla sua morte. Evidentemente vostra moglie veniva ricattata. E proprio per quelle foto. Perché non ne avete parlato? La morte di Marta mi aveva sconvolto. E poi ho seguito il consiglio del mio avvocato. Ah, bell'avvocato. Voglio conoscerlo subito. Non arrivate a conclusioni affrettate. Conosco da anni il mio avvocato. Siamo amici da vecchia data. E se ha agito così, è stato per evitarmi altri dispiaceri. Sarà come dite voi. Ma certamente ci ha impedito di arrivare prima a tutto questo. E state certo che me ne dovrà rispondere. Grazie. 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 Per un momento ho pensato che non volessi rispondere. No. No, sono entrata solo adesso. Hai visto che cosa è capitato alla piccola? Sì. Se non vuoi che ti capiti qualcosa, comportati bene. Ci guadagni anche tu. E inoltre potrai sempre contare sulla tua piccola dose. Capito? Sì, certo. Il figlio di puttana di avvocato. Mi sarebbe piaciuto fargli passare cinque brutti minuti. A proposito di avvocato. Mi ha telefonato Loretta. Dice che deve vederti per farti firmare alcune carte. Può mandarle al mio legale, lo paga apposta. Lei vuole vedere te, testone. Balla che conti tu. Poi non ho tempo oggi. Sì, che ce l'hai. Possiamo fare così, guarda. Tu fai il giro e io passo a prenderla. Dovrai pur mangiare, no? Oggi farai uno sforzo, mangerai con lei. Senti, Cupido. Quando penserai ai fatti tuoi sarà sempre troppo tardi. E adesso facciamo un salto in centro. Voglio sapere le ultime novità. Ecco lei. Buongiorno, grazie. Prego. Un crudino e una malaverna. Un crudino e una malaverna. Allora? Sembra che questa sera ci sarà una riunione di capoccioni. Credi sia per la questione dei francesi? Lo spero bene. Ne abbiamo reso la vita difficile. Qualcosa dovrà pur succedere. A proposito, tu a che punto sei con la ragazzina? Walter, il fratello di Sandra, è convinto che quella compagna di scuola, come si chiama, Maria, deve sapere molto di più di quello che ha detto all'inchiesta. Bisognerebbe disporre un servizio di pedinamento, anche perché per ora non abbiamo altre piste. Ciao, Daniele. Allora? Come, come te la passi, Ugo? Me l'hai già chiesto prima. Scusa, mi ripeto. Tra di noi è sempre stato difficile parlare. Si vede che non avevamo niente da dire. Non è vero. Non è stato sempre così. Se le cose sono cambiate, non è stato per colpa mia. Non ricominciamo. Non voglio litigare con te. Non hai proprio saputo perdonarmi. Non ho potuto perdonarti. È diverso. E tu sai perché. Quando l'ho conosciuto non sapevo che fosse un delinquente. Ci hai pensato tu a scoprirlo. È il mio mestiere. Il tuo mestiere, il tuo mestiere. Te l'ho sentito dire almeno centomila volte. Ma non è solo per il tuo mestiere che l'hai ucciso. Scusami, non volevo dire. Non arrabbiarti. Ti prego. Danieli, ti è molto amico. Lui ci vede ancora insieme. Se solo potessi dividerti, Bada, ho detto dividerti con il tuo lavoro. Io sarei già contenta. Io sarei già contenta. Io sarei già contenta. Non ci stanno a raccontare stupidaggine. La polizia ha visto giusto. Una volta tanto. E quei francesi stavano cercando di farci fessi. D'accordo. D'accordo. Qualcuno li ha fermati. Ma che? Mi domando io. E perché poi? Don Nicola, ma come potete pensare che noi ne sappiamo qualche cosa? Io non voglio accusare nessuno. Almeno per me. Ma dovete convenire con me che se i francesi non avessero avuto degli appogli in città, non si sarebbero mai azzardati a tornare. E voi sapete bene perché? La sola spiegazione è che qualcun altro fuori del nostro giro li ha aiutati. E chi si sarebbe azzardato? Voglio saperlo. E a più presto. Parliamoci chiaro. Noi ci siamo divisi la città in pieno accordo. E dal giorno che abbiamo allontanato i francesi e i tunisini, le cose sono andate liscia. Non ci siamo mai pestati i piedi. E credo, per i ben di tutti, che nessuno voglia incominciare ora. Le nostre attività sono disturbate dalla polizia. Proprio per questa faccenda. Bisogna che questo casino finisca. E al più presto possibile. Buonanotte, Don Nicole. State buono. Sti figli di puttana. Se stanno cercando di farmi fesso, li faccio fuori tutti quanti. Spero che vi stiate sbagliando, Don Nicole. Una guerra tra di noi non ci vuole. Faremmo il gioco della polizia. E che non lo so. Ma va, portami a casa. Ti prego, cerca di capire. È il mio lavoro. È una cosa importante. Va bene. D'accordo, non parliamo ne più. Che ci fai qui? Cercavo te. Come stai, commissario? O ti devo chiamare giustiziere? Stai zitto, bastardo. Mi occuperò anche di te. Lo sai, è da molto tempo che mi domando perché non l'hai già fatto. Tu sai chi sono e cosa faccio. E poi invece... Ho pensato non lo può fare perché il clan mi protegge. Non può farmi niente nessuno. È tutto. Non sarà sempre così. L'aspetterò. Prima o poi non avranno più bisogno di te. Sai cosa penso? In fondo il mio è come... un lavoro un po' particolare. Ma tu cosa ci guadagni? Nemmeno la fama. Perché naturalmente nessuno deve sapere. Un vero peccato. Tu ti illudi se credi di comportarti da eroe. Sai perché? Tu non sei un eroe. Tu sei un bastardo. Più di me. Questa è la sola ragione. È tutto qui? No. Tu cerchi lo scontro. E voglio dirti che anch'io non aspetto altro. Forse non aspetterai molto quel giorno. Davvero? Mi deciderò prima a cercarti. Come vuoi. Ma non sarà facile sorprendermi. Capiterà l'occasione. Stai tranquillo. ? Ma non sarà facile. Tu cerchi lo scontro. Ma non sarà facile. Ma non sarà facile. Mi deciderò prima a cercarti. Ma non sarà facile. Ma non sarà facile. Ma non sarà facile. Ma non sarà facile. Sergio Donati Salve commissario, cercava me per caso? Sai chi sono? Certo, non si ricorda di me Beh, ero più ragazzino quando ci siamo conosciuti a casa di mio padre Ora pagherai per la morte del direttore del Cinema Ideal No, no! No, no! Sì? Un momento Lo vogliono te Sì? Va bene Sì, vengo subito Che cazzo ci fai in giro a quest'ora? Non sei mica di servizio? Eh, che ci vuoi fare? Mi hanno buttato giù dal letto? Che cavolo di mestiere È successa una cosa curiosa Hanno ucciso il quarto rapinatore del Cinema Un certo Donati Ma non è morto subito E qui sta la cosa strana Ha chiesto di parlare con me Lo sai che lo conoscevamo? O almeno conosciamo i suoi genitori? Non mi direi che è il figlio del generale Donati? Sì, proprio lui E che ti voleva dire? Non lo saprò mai Era morto quando sono arrivato all'ospedale È un vero peccato, mi dispiace per lui Ma mi dispiace di più per i suoi È stato riconosciuto, vero? Sì, non ci sono dubbi Ciao, Daniele E Moretti, noi siamo pronti, quando vuoi Vengo subito Perché non te ne torni a letto, tu che lo puoi fare? Vorrei essere al tuo posto Ugo Chi può aver sparato al ragazzo? Chi altro, se non un complice? Se sono tutti morti Ce ne saranno stati altri Non potrebbe essere stato il giustiziere? Vedo che ti sei fatto influenzare dalla pubblicità che fanno i giornali Ma il giustiziere, esiste o no? Ci crederò quando lo vedrò Ciao Ehi, giusta te Hai fatto bene a venirmi incontro Sti pacche sono pesante Dammi una mano Ehi, giusta te Ehi, giusta Ehi, giusta Ma Ti dico che si sono scatenati E se non li fermiamo si scanneranno tutti E l'inchiesta non ne ricaverà niente Anzi Va bene Ci sentiamo dopo Ciao Walter un momento per favore Buongiorno Manfredi Che succede? Mi scusi se la disturbo Mi permette innanzitutto di farle le mie condoglianze Grazie Molto premuroso Ha bisogno di qualcosa? Ho un po' di premura Sì capisco Ma io volevo parlarle di Sandra Oh lo so Forse questo non è proprio il momento adatto Ma Vede Io avrei bisogno di recuperare Recuperare? Non capisco Si spieghi meglio Vede Il giorno Sì Il giorno della disgrazia Io ho prestato dei soldi a Sandra E ora dovrei Dovrei cercare Di recuperare in qualche modo Non facciamo tante storie Quanto ha dato a mia sorella? Beh Effettivamente Non so come mi sia lasciato convincere Ma Sandra Mi ha detto di averne tanto bisogno E io le ho dato Un milione Cosa? Sì Lo so che non avrei dovuto Ma L'ho fatto Ecco Brutto bastardo Sempre che sia vero Mi devi spiegare perché avresti prestato un milione A una ragazzina di 17 anni Ho cercato di spiegargli le cose Ho detto la verità Dovete credermi Non volevo darle tutti quei soldi Ma lei è stata molto convincente Vecchio porco Non ti permetto di parlare così di mia sorella Seduto Come le devo far capire che praticamente sono stato io ad essere seduto Altro che ragazzina quella Portatemelo via Ma come si può credere a una cosa del genere? E chi mi dice che non sia stato lui Ad ucciderla Per evitare che lei lo denunciasse Magari fosse tutto così semplice Purtroppo credo che questa storia sia vera Ma che dice? Ti avrei convocato domani per chi le vedessi Il caso ha voluto così Guardane Così capirai quello che voglio dire Ah grazie Non credere che non ti capisca sei Ma tua sorella non può essere stato ucciso solo per quelle foto Evidentemente è stata coinvolta in qualcosa di più pericoloso E le fotografie c'entrano solo in parte Ora tu puoi aiutarci a ricostruire i movimenti di tua sorella negli ultimi mesi Se mettiamo le mani su chi l'ha uccisa Credo che tutta questa faccenda sarà risolta E di quel porco di Manfredi che volete farne? A meno che tu non sporca denuncia E poi a che servirebbe? Non credo che potremo perseguirlo Mi spiace ma è così E ti do un consiglio Dimenticalo In un certo modo anche lui è stato vittima delle circostanze Pensa piuttosto ad aiutarmi 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 melodie da quell'antico liuto che era la lingua inglese si pronto le più nuove ed affascinanti melodie appartengono ai tales of mystery and imagination di alan perso che da api le business ma ha capito l'importanza e la commercialità dell'opera di poe la gente ama la letteratura dell'orrore e i film squali king kong psiche terremoto valeva dunque la pena di beh non hai detto che volevi parlarmi senti brutta stronza t'ammazzo se non mi dici come sono andate le cose ma cosa dici ma di che cosa parli ho visto le foto le foto capisci e so tutto tutto puttana e so anche che è colpa tua disgraziata non posso parlare mi ucciderebbero non ce ne sarà bisogno perché sarò io ad ammazzarti ma se sei solo un po intelligente prima mi dirai come sono andate le cose così te ne porterai a presso degli altri dai su parla parla puttana un anno fa prima delle vacanze di natale io e sandra siamo andate ad una festa una festa come tante altre c'era molta gente ci hanno fatto bere molto io non so esattamente come siano andate le cose non l'ho mai saputo potevano fare di noi quello che volevano maledetti la pagherete la pagherete tutti basta così falter basta così hai fatto un buon lavoro adesso tocca a noi segui la mia auto il commissario moretti è atteso nel suo ufficio il commissario moretti è atteso nel suo ufficio ho capito questa è la storia nelle linee generali ma ora dovrai dirci tutto il resto nomi indirizzi tutto quello che sai mi ammazzeranno mi ammazzeranno questo è poco ma sicuro a meno che noi non arriviamo a prenderli prima mi sono spiegato non voglio dire altro ti uccideranno ugualmente per loro hai già detto troppo ma è possibile che non ti rendi conto che se tu avessi parlato prima con ogni con ogni probabilità sandra sarebbe ancora viva avanti tu qui te l'avevo detto di non cercarmi non voglio che nessuno ti veda qui lei non ha idea avvocato di quanto io sia contento di rivederla abbiamo molte cose da raccontarci ma questa volta alla centrale portala via non canti vittoria troppo presto commissario mi può accusare soltanto di aver avuto dei rapporti con una minorenne senta non le permetto avvocato marta borletti non si mette in testa delle strane idee io amavo quella donna commissario e non c'entro con la sua morte chi la ricattava eravamo tutte e due vittime dello stesso ricatto sì sicuro e lei ne sono certa bene portala in macchina io vengo subito accidenti sono senza sigarette torna presto le assicuro che non li conosco so come funziona la cosa ma niente altro hanno delle foto con le quali ci ricattano ma il più terribile è che sono i soli che ci possono rifornire di droga ad un buon prezzo in cambio combinano degli incontri un po' come dire particolari e il più delle volte non ci rendiamo nemmeno conto con chi abbiamo a che fare so che ci guadagnano bene e in due modi sia per gli appuntamenti che per la roba che riescono a smerciare perché prima o poi i nostri clienti imparano a drogarsi e sapresti indicarmi uno di quei posti dove vi incontravate? no davvero ogni volta era un posto diverso come avvengono i contanti? per telefono sono sempre loro a chiamarci ti danno un indirizzo e basta arrivi là e trovi la tua bella dose pronta quando ti riprendi è già tutto successo ora se permetti prendo le mie cose e me ne vado come ti avevo detto prima sono molto impegnata sei ferita? non è niente, è passata ehi, che ti succede? dove cazzo sei stato disgraziato? hanno ucciso Maria per colpa tua dai stupido, monta devo raggiungerli pronto? Donieri, mi senti? che succede? Maria è stata uccisa mentre ero in teatro Walter si era allontanato un momento hanno anche cercato di uccidere la ballerina ne ho riconosciuto uno, un certo Piero Bosè si sono accorti di te? no, non ancora almeno avviso la centrale per rinforzi come vuoi ma non sarà facile sorprendermi capiterà l'occasione stai tranquillo non sono non sono non è non è un problema non è non è sire ma è Ma è necessario lasciare la città Come devo dirtelo che mi ha visto in faccia? O vuoi aspettare qui per vedere come va a finire? Porca vacca, proprio adesso che le cose si stavano aggiustando Chi era quello con Maria? Non lo so, credo il fratello di Sandra Attenzione, attenzione, qui Beta 5 Mi trovo in via Pomba, angolo via dei Mille Si sono fermati davanti al numero 14 Ricevuto, arriviamo Molto bene, chiudo Li abbiamo in pugno Ma dove è finito? Non lo so, credo Non so, credo No! No! Hai visto che mi hai dato l'occasione? Mi state a divertere? Senti, sono della polizia, ho bisogno della tua moto Cosa? Beh, visto che con le buole non funziona Ladro! Poliziotto! Inviare due volanti e un'autoambulanza, passo Ricevuto, provvediamo subito, passo e chiudo Auto 2, Auto 27, portarsi urgentemente in via Pomba 14, dove troverete il commissario Moretti Che ci sono attenti Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Io so che tu sei. Ed è tutto quello che hai da dirmi. Non ti aspetterai da me spiegazioni o delle scuse. Non sono il tipo. Ma che tipo sei, Hugo? Sono anni che ti conosco. E non avrei mai pensato. Risparmiami le tue scene sull'amicizia. Ci vediamo domani, ciao. Dove credi di andare? Come speri di risolvere la cosa? Non c'è niente da risolvere. Deve continuare così per il bene di tutti. E sono sicuro che tu non direi niente perché conviene anche a te che ci sia qualcuno che faccia un bel ripulisti. Non finisce così. Non finisce così. Hai visto che ce l'hai fatta a sparare? L'ho fatto per difendermi Anche io ho cominciato così Pronto, centrale? Mi commissario del reno Mi commissario del reno Mi commissario del reno